Signora Presidente, signor Commissario, il grande cambiamento della sostenibilità sta investendo tutti i settori produttivi, oltre che il nostro modo di vivere e di muoverci e di lavorare. E per questo anche il settore produttivo deve essere accompagnato, produttivo relativo al tessile, deve essere accompagnato in questa trasformazione. E dico volutamente accompagnato perché qui si tratta di fare insieme delle strategie pubbliche e anche di avere un'iniziativa privata adeguata, insomma di lavorare insieme per correggere comportamenti e scelte sbagliate e non più sostenibili e nello stesso tempo trarre tutte le opportunità che questo settore può offrire. È un settore, per questo signor Commissario lamentiamo veramente la mancata presentazione da parte della Commissione di quella strategia che era stata promessa. Dicevo è un settore che ha un grandissima valenza, non solo come volume produttivo e come peso nella produzione, ma anche come valorizzazione delle nostre capacità creative. Pensiamo a quanti giovani, quanti giovani talenti della creatività e dell'arte lavorano nella moda. E anche come valore commerciale, perché ci sono volumi di consumi e di distribuzione in tutto il mercato europeo molto significativi, oltre che naturalmente extraeuropeo. Allora conosciamo i punti della sostenibilità, relativi alle materie che vengono utilizzate, alle sostanze nocive, è stato detto e citate dai colleghi precedentemente, che vengono impiegate nei processi produttivi e poi riguardano tutta la parte relativa allo smaltimento, al riciclo, all'insegna dell'economia circolare. Questi temi li conosciamo. Io voglio toccare due aspetti, però che spesso stanno un po' sullo sfondo, ma che secondo me sono altrettanto importanti. A proposito della fase finale del ciclo di vita, soprattutto nel fast fashion, c'è tutto un grande volume di prodotti che vengono mal raccolti, mal smaltiti, ma c'è anche un'esigenza, una grande possibilità di dare uno sbocco a tutto l'ambito delle ONG, del volontariato, che questi indumenti recuperano e mettono nel mercato della donazione e della solidarietà. Per l'Europa questo è un capitolo importante, se diciamo che anche la solidarietà sociale è un tratto distintivo della nostra economia. Allora qui dobbiamo avere regole che facilitano, invece oggi le regole impediscono un corretto canalizzazione degli indumenti in questo mercato. Infine la due diligence che è stata citata. Io penso che come europei noi dobbiamo essere responsabili di tutto ciò che consumiamo, anche se non lo produciamo qui. E di ogni prodotto, ogni merce, dovremmo chiederci da dove viene, come è stata estratta un prodotto.